Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Un posto al sole è ricominciato e Michele sarà al centro di una nuova trama Cosa accadrà al giornalista di Radio Golfo 99.interrogativo.Michele Saviani è l'ex marito di Silvia Graziani che tornerà grande e protagonista nelle prossime puntate di Un posto al sole La sop napoletana è tornata dalla pausa estiva e va in onda regolarmente tutti i giorni alle 20.50 su Rai 3 Finalmente sono tornate in onda le vicende dei protagonisti che abitano a Napoli tra Palazzo Palladini ed intorni Tra questo, inizieranno nuove trame per Silvia e Michele, che si sono da poco separati La coppia storica della sop napoletana si è divisa dopo che Silvia si è perdutamente innamorata del banchiere Giancarlo Michele è rimasto singolo ed è partito per qualche tempo per Milano Ora sono entrambi a Napoli e nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena incredibile per il giornalista Vediamo insieme di cosa si tratta.Michele aveva scoperto il tradimento della moglie Silvia e insieme hanno deciso di separarsi Successivamente, la coppia ha continuato a interagire per via della figlia Rossella, trovandosi spesso in disaccordo anche sulla vita della dottoressa Rossella infatti si è unita al dottore Riccardo, ma le cose non sono sempre sfilate lisce Mentre Silvia ha cercato di essere disponibile e morbida nei consigli verso la figlia, Michele l'ha spesso e volentieri allontanata da quella relazione difficile Tra Michele e Riccardo c'era stato anche un durissimo scontro, con grande dispiacere di Rossella Nelle prossime puntate Silvia e Michele si scontreranno di nuovo su queste questioni e il giornalista verrà messo all'angolo e in disparte sempre di più Per Michele inizierà un momento delicato fatto di riflessioni sulla sua vita e sulla sua persona, soprattutto come padre All'improvviso però ci sarà un colpo di scena incredibile, perché nella sua vita arriverà una nuova donna, Fabiana Sembrava che il giornalista avesse chiuso la porta definitivamente all'amore, ma Fabiana riuscirà a rompere il muro di ghiaccio di Michele Cosa accadrà a questo punto tra lui e Silvia? La proprietaria del vulcano inizierà a vedere il suo ex marito accanto a una nuova donna e tutto questo le susciterà una strana sensazione Rossella poi non gradirà affatto la presenza di questa donna nelle loro vite e la situazione si complicherà, quando Michele invece comincerà a dimostrare un serio interesse verso Fabiana Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video